Il colmo dei colmi sapete qual è? Adesso ve lo dico io, siamo veramente arrivati al colmo dei colmi. Fare un articolo per dire che il programma di Alberto Angela batte Tempation Island. Mamma mia, che notizia! E bisogna dirlo, bisogna dirlo perché ormai sembra sconfitta la cultura. Ora ormai sembra impossibile in questo paese divulgare, fare corretta informazione e soprattutto parlare di cose importanti, istruire e quant'altro. Sembra diventata una cosa impossibile tanto da dover sottolineare in giornali importanti questa vittoria. Va bene, naturalmente noi la notizia la accogliamo molto bene, ma ripeto, mi viene da ridere perché siamo arrivati a questo punto, doverlo scrivere sui giornali. Grazie.